Allora, continuiamo la serie di test dedicata agli obiettivi Viltrox. Abbiamo già provato il 24 1.8, il 35 1.8, oggi vi parlerò del Viltrox 50 1.8. Qui lo vedete installato su una Sony A7R2 che abbiamo utilizzato per i test di questo obiettivo dedicato per ora, in questo momento, alle Sony E, quindi Sony Full Frame APS-C e alle Nikon Z, anche in questo caso, Full Frame APS-C. Come vedete è un obiettivo abbastanza compatto, certi 50 di una volta dedicati alla RFX erano molto molto più piccoli, però ormai ci siamo abituati sugli obiettivi dedicati alle macchine moderne, specialmente obiettivi focali fissi ad un'apertura non troppo ampia avere una certa volumetria, però diciamo che si manovra bene. Provato su una Sony A7R2 perché ha un bel sensore bello spinto, bello denso, che può mettere in difficoltà gli obiettivi. Allora, prima di parlare ed entrarci nel test di questo 51.8 della Viltrox vi ricordo di fare l'iscrizione al nostro canale, ve lo dico già da tempo vero? Ci seguiti veramente in tantissimi, non notiamo dalle curve di visualizzazione dei nostri articoli, ma gli iscritti in percentuale sono pochini. A voi costa poco, anzi niente fare un click sul pulsante di iscrizione e spuntate la campanellina, quindi sarete avvisati ogni volta uscirà un nuovo articolo di fotografia a 360 gradi di noi ProMirrorless. Nella parte testuale poi di questa recensione troverete il link a tre pagine di tre corsi, corso dallo scatola stampa Fine Art, corso bianco e nero Fine Art e corso composizione Fine Art. In queste pagine sono descritti i corsi, come sono stati pensati, come sono stati sviluppati. Allora, parliamo un po' di questo Viltrox 50. Ho detto, abbiamo già provato il 24-35-1.8, vi lascio il link della parte testuale dell'articolo. Questo 50 è la focale classica, classicissima, una focale utilizzata sì nel primordio della fotografia, è una classica focale utilizzata da grandissimi fotografi, si adatta un po' a tutto, si adatta al ritratto, specialmente quello ambientato, al reportage, volendo anche lo still life, un po' a tutto. E' la vera focale camaleontica. Poi dopo sapete bene che ci sono gli amanti di certe focali, c'è chi per dire il 28 non lo mollerebbe mai, la stessa cosa al 35, ma il 50 è una focale classica, adattissima anche a livello di proporzioni, si dice che il 50 somiglia un po' alla visione umana, poi ci sono chi nega, chi non nega. Comunque è una focale che bene o male consiglio di averla nel corredo, almeno di provarla, per vedere se il mood, il look, il tipo di immagine che dona la focale di 50 mm sul full frame è adatta al proprio gusto compositivo, al proprio estro fotografico. Comunque adesso vi descriverò da vicino come costruite l'obiettivo, vi farò vedere una serie di immagini, al solito immagini vere, non mire ottiche, per valutare quello che è nitidezza, aberrazione, flare, sfocato, distorsione, vignettature, insomma tutti quei parametri che mi fanno capire se l'obiettivo è valido o meno. Poi alla fine vi dirò quelle che sono state le mie impressioni durante l'utilizzo di questo, ve lo faccio rivedere, Viltrox 50 1.8. L'obiettivo oggetto del test è dotato di innesto FE e mount, quindi va bene per le Sony full frame e APS-C mirrorless. In questo momento si trova anche con l'innesto Z, quindi per le Nikon Z. E' un obiettivo in metallo, come la tradizione Viltrox, pesa circa 350 grammi e lungo 38 mm e ha un diametro massimo di 70 mm. Ha 9 mm di diaframma, 11 elementi in 10 gruppi, 55 cm di distanza minima in messa a fuoco e l'autofocus di tipo steeper moto estremamente silenzioso. Ha la messa a fuoco interna, nel senso che non si allunga durante la messa a fuoco stessa ed è full time MF, vado a dire io posso correggere al volo la messa a fuoco anche se è impostata in automatico sulla macchina. E' presente la ghiera dei diaframmi, però purtroppo senza click va bene per i videomaker, ma per noi fotografi sarebbe molto meglio la presenza del click. Il diametro filtro è di 55 mm, non è tropicalizzato, comunque adesso vi faccio vedere la baionetta. E' presente una presa USB-C che mi permette di aggiornare molto facilmente, devo dire, il firma dell'obiettivo, quindi c'è piena compatibilità per le macchine attuali e per eventuali modelli futuri. Iniziamo come al solito valutando quella che è la distorsione dell'obiettivo. Come è evidente da questa fotogramma la distorsione non è stata corretta ed è presente leggermente a cuscinetto. A livello di vignettatura, a tutta apertura vedete è presente anche se non troppo invasiva, ma già da f2.8 poi successivamente a 4, 5, 6 va a sparire completamente. Il comportamento a livello di flare direi che è buono, vedete non si notano immagini fantasma, il contrasto rimane sempre accentuato ed è apprezzabile l'effetto stella a 18 raggi dovuto al diaframma a 9 lamelle. Andiamo adesso a valutare quello che è l'aberrazione. Cominciamo dalle aberrazioni cromatiche laterali. Sarebbero quelle in cui i raggi di colore vanno a fuoco a differenti distanze dal punto focale. Andiamo a ingrandire l'immagine così vedete bene qual è questo difetto. Si notano, vedete degli aloni violacei, i bluastri, sui soggetti ad alto contrasto come la croce oppure anche il bordo stesso dell'edificio. Andiamo a valutare anche quelle che sono le aberrazioni assiali. In pratica è quando le varie lunghezze d'onda dei colori cadono a distanze diverse dal piano di fuoco. Si può avere questo difetto diaframmando e devo dire comunque che l'obiettivo anche a tutta apertura, come vedete in questo ingrandimento, si comporta bene. Non noto variazioni cromatiche e sprangiatura di colori nei piani a fuoco davanti al punto di fuoco e dietro al punto di fuoco. Valutiamo adesso la nitidezza all'infinito dell'obiettivo e cominciamo, come al solito, dal centro del fotogramma. A 1.8 vedete l'immagine è leggermente morbida, anche comunque devo dire più che sufficiente. A 2.8 è già buona e si mantiene costante con un bello step da f4 sino a f11. A f16 al solito è presente diffrazione. Andando a valutare le prestazioni ai bordi, a 1.8 è piuttosto morbida, vedete anche a 2.8 la nitidezza non è molto elevata, ma da 4 si ha più o meno un'uniformità su tutto il fotogramma, anche questo molto buono, sino a f11. Valutiamo adesso quella che è la nitidezza alla distanza media di lavoro, molto importante per questo tipo di obiettivo. Ne approfitto per farvi notare le cromie dell'obiettivo che sono piuttosto neutre, quindi leggermente più calde rispetto ai filtros che avevo testato tempo fa, quelle per Fuji, tanto per capirci. Andiamo a valutare adesso la nitidezza, cominciamo al centro come al solito, leggermente morbida tutta apertura a 1.8 ma c'è già un bello scatto in avanti a 2.8 e un ulteriore scatto di nitidezza da f4 costante sino a f11. Al solito vedete f16, diaframma da evitare, pena diffrazione. I bordi a tutta apertura sono un po' morbidi ma non in maniera eccessiva devo dire. 2.8 4, diciamo 4 più che altro, diaframma ottimale per avere uniformità su tutto il frame e si mantiene costante elevato sino a f11. Ovviamente ho provato anche la nitidezza alla minima distanza di messa a fuoco, anche perché gli obiettivi non è che lavorano bene a tutte le distanze. Comunque questo 50 mm della Viltrox si comporta bene anche la minima distanza. Vedete, la nitidezza è buona, anche il micro contrasto. Non potevo certo non provare lo sfocato su un obiettivo del genere. Diciamo che lo sfocato non è eccezionale, comunque neanche scarso, direi che è un buono sfocato, abbastanza morbido, abbastanza strutturato, forse le volte anche un po' troppo nei passaggi ad alto contrasto. Guardate quella lampada a sinistra del vaso di fiori, guardate la griglia della sedia sullo sfondo, si nota una certa sdoppiatura delle linee. Adesso andando a ingrandire l'immagine andremo a valutare anche quella che è la progressività dello sfocato, vale a dire la capacità di andare da fuoco a fuori fuoco sui diversi piani in maniera progressiva. Se notate le foglie della pianta in primo piano e man mano i fiori, man mano che si va verso lo sfondo, diciamo che non c'è uno stacco netto tra il fuoco e fuori fuoco, ma abbastanza progressivo. Niente di eccezionale, ma una buona prova. Vi faccio comunque ancora notare i punti luce guardati in alto a destra, dove si notano molto bene le lavorazioni delle lenti asferiche di tipo industriale. Comunque complessivamente una buona prova anche sullo sfocato. Anche stavolta il filtro si è comportato direi molto bene, vi ho già raccontato i file durante la visualizzazione e l'obiettivo allora. Prima di tutto vi racconto dell'autofocus perfettamente compatibile con la Sony A7R II. Sono straconvito che sarà pienamente compatibile anche sulla Sony A7IV, A7III, A9, A1. È ingegnerizzato bene, è stato implementato bene la funzione di autofocus, autofocus silenzioso, scattante, rapido. Oltretutto HANA ha preso USB, avete visto USB-C per aggiornare il firmware, quindi modelli nuovi oppure implementazioni firmware sulle macchine già presenti e si aggiorna il firmware dell'obiettivo, la compatibilità è assoluta sia a livello autofocus sia a livello di interpretazione dei file RAW o JPEG che vi dà la macchina, specialmente i RAW. Quello che non mi è piaciuto ancora, cioè sono contento che c'è la ghiera dei diaframmi, ma come fotografo avrei preferito il click sui diaframmi, cioè Biltrox metti una levettina come fanno altri produttori per decliccare il valore dei diaframmi, click ai videomaker piacerà sicuramente come a noi fotografi, sapete bene che il click è importante sia come rapidità operativa sia anche come precisione, sento il click e so che il diaframma in F4 non è un 3.8, ok? Tanto per capirci. Allora a livello di prestazioni generali, l'obiettivo come tutti i Viltrox che ho provato dimostra una buona nitidezza, tutta apertura leggermente morbidina, chiudete 2.8.4, avete una bella nitidezza sia al centro che ai bordi. Anche stavolta le aberrazioni ci sono, ci sono aberrazioni piuttosto presenti, specialmente quelle longitudinali, quelle che ti danno quegli alieni violaci, tanto per capirci sui soggetti ad alto contrasto ai bordi, ci sono, si possono evitare, si possono togliere nel senso sia sulla macchina, implementando le correzioni che sono comunque compatibili, la Sony mi dà la possibilità di implementare le correzioni a livello di distorsioni di vittature, aberrazioni, quindi avete dei JPEG puliti, per chi lavora sul proprio computer in post produzione in Lightroom, fatto un click e corregge quasi totalmente le aberrazioni, quasi totalmente, comunque vengono praticamente quasi tutte via. A livello di distorsione molto ben corretto, leggerissima distorsione a cuscinetto, anche a livello di flare ottimo comportamento, non ho notato riflessi interni, immagini fantasma, il contrasto rimane sempre buono anche nella zona dove c'è la forte illuminazione, è bello l'effetto stella a 18 raggi dovuto alla diaframma 9 lamelle, sapete bene no? Quando le lamelle sono dispari i raggi si raddoppiano, quando sono pari i raggi sono pari al numero delle lamelle, se non lo sapete comunque adesso lo sapete. A livello di sfocato, uno sfocato buono, non da urlo, non ha quella cremosità di certi obiettivi famosi per lo sfocato, quella diciamo quella pastosità, è un po' ruvido. Ho notato anche nei punti di luce che vi ho fatto vedere si vedono un po' di effetto cipolla, elaborazioni asferiche, ci sono tanti centri concentrici nel punto luce che possono dare in effetti un po' fastidio, quindi attenzione a queste particolarità. Diciamo che l'obiettivo comunque che ripeto ancora, ancora e ancora tenendo conto del prezzo d'acquisto è un bel 50 1.8. Diciamo che può essere una buona alternativa da valutare per i possessori per ora di Sony e di Nikon mirrorless, quindi Sony attacco Sony E e Nikon Z, straconvinto che per un po' uscirà anche la baionetta RF. Quindi un obiettivo da valutare attentamente perché è un onesto obiettivo, un buon obiettivo con un buonissimo rapporto costruzione, qualità ottica e prezzo. Penso di avervi dato almeno un'idea di quelle che sono le prestazioni e le potenzialità di questo 51.8 della Viltrox, se vi è piaciuto quindi l'articolo mettete un like, mi raccomando fate l'iscrizione al nostro canale, spuntate la campanellina e ci vediamo al prossimo test sicuramente sul Viltrox 85 1.8. Ciao a tutti!